E mentre Marianopoli resta in zona arancione fino al 5 di gennaio il numero dei contagi continua ad aumentare in provincia. Sono 96 pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 30 a Caltanissetta. Aumenta pure il numero dei ricoverati e intanto si conta ancora un decesso, un paziente di Gela. Rispetto al numero dei ricoverati, la cifra totale dei ricoverati in malattie effettive è di 45 pazienti, mentre 7 sono ricoverati in terapia intensiva. 1.769 i ricoverati in quarantena domiciliare. Il paese con il più alto numero di contagi Gela, 785 in quarantena domiciliare, 17 in malattie effettive e un ricoverato in terapia intensiva. 342 sono invece i positivi in quarantena domiciliare a Caltanissetta, 10 in ricoverati in malattie effettive, un ricoverato in terapia intensiva. Dunque a Caltanissetta sono 353 in tutto i positivi. Ci sono soltanto tre paesi covid free, sono Acqua Viva Platani, Buon Pensiere e Sutera in questo momento. Da tenere sotto la lente di osservazione San Cataldo, 138 positivi, 3 ricoverati in malattie effettive e il sindaco chiude al pubblico gli uffici comunali.